Ciao amici, benvenuti a un altro contatto da NBC, sono l'americano, io sono l'americano, mi chiamo Prango, oggi sto a fare un po' di AI con Frankie High Energy, cover da Drake, vediamo come Drake fa, Drake vive 5-7 minuti da casa mia, ho pensato, uso a lui, siamo pronti, so Frankie High Energy, ci passo avanti che al principio, I know che c'è la musica, intro music, vediamo, grande Drake, solo intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi, a far promisse senza mantenerle mai, se non per cacolo, infine sono utili e i mezzi non possibili, la mossa in gruppo è massima, l'imperativo è vincere, non fa partecipare nessun altro, nella logica del gioco, la sola regola è strascaldi, e ti scupo, io rispetto verso i copesimi, anche gli ultimi sanno, gli ultimi sei primi sono raggiungibili, sono tanti, arroganti, quei più deboli e germini, quei potenti, sono ripicanti, sono più gentici, guardali, stanno dietro a maschere, non li puoi distinguere, come i lucertoli si arrempiano, se vuoi perdono la pote, la ricomprano, fanno quei che vogliono, si saltano in tiro, fanno, sfindono, sfandano, e sono quei che è, wow incredibile, quando cantavo con il gruppo, o facevano l'altra parte lì, il ritornello, non ha cambiato la voce, ha capito che quello era un gruppo e non l'ha toccato, e l'AI sta diventando meglio e meglio ogni secondo, wow, e io non so dire una cosa buona, o una cosa brutta, io solo sto usando la tecnologia al momento, sto scoprindo stentano e tutti i resti invidiano, poi lo comprano, in costante installation, col vicino, col stuismo, partono dal pradino e vanno fino in cio, a più parabole sul getto che si ammarcono il ventino, e sono quelli che di sabato gravano automobili, che alla sera svecciano, tra l'asfalto i barboli, nei di uniceti che appartengono, e la terra come i missili cui assomigliano, tiratissimi, si infainano, s'alcolizzano e poi si impastano su un'altra, nasi bianchi come foodtop del Wun, che dipendano di rosso in un livello di Dù. E sono intorno a me, ma non parlano con te, sono come me, ma si sentono un vero, sono intorno a me, ma non parlano con te, sono come me, ma si sentono un vero, qui per sé, io per sé, maniche si stringono tra i banchi delle chiese la domenica, mani copili, maniche che fanno cose che non si raccontano, altrimenti altre maniche si sposa, pensi, si scambalizza, maniche poi fiamman vite se non cammo sgombero, maniche come o io diritto, maniche brandisco, manche vengli, che fattiscono gioielli che si alzano alle spalle dei falcani, quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a minotte mentre figli guardano la TV, che fanno i boss, che compran class, che sono sofisticati dai chiamari in ass, gli incubi di plastica, bevo, renderò da fofa e poi in fingia, ma l'unica che accendono è quella che da loro le nemosino ogni sera, quando mi nascongo sulla faccia scura della loro lura, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono un vero, sono intorno a me, ma non parlano con te, sono come me, ma si sentono un vero, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono un vero, sono intorno a me, ma non parlano con te, sono come me, ma si sentono un vero, wow, era drake, sembrava un po' diverso, sì, ma il meglio, dovete sentire quello che ho fatto Coraline con Freddie Mercury, e da Moneskin, e quella era incredibile, per dirti il vero, questo era ok, era fatto bene, ma non era grande come quello di Freddie Mercury, nemmeno quello di John Lennon che ho fatto, anyways, nella descrizione, se volete giocare con AI, clicca sul link, ho messo una copia, pure, della canzone, nella descrizione, iscritti qui che piace, sentiamo prestissimo, ciao.